Anna Osa che me l'hanno presentato fantastico, i Neutrols furono ospiti varie volte alla trasmissione, quindi rilanciandosi. Dopo il tour Belleno però preferì lasciare il gruppo per dedicarsi completamente alla produzione dell'amata Anna. E' una notte strana che non mi ascolta e non mi ama, lo solitario dove sei, che porti a spasso dentro un sacco i sogni miei, mi dammeli se vuoi. E' una notte falsa, notte stelle che non sanno, lo solitario cosa fa, tu che parli spesso dentro il cuore con chi sei, riparlami se vuoi, ascoltami se vuoi. Sento qualche cosa che mi brucia dentro, che mi butta via e che non sa che tu, che solo tu, mi fai sentire inutile la vita. Sento 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 E ora non ti stanno, non mi ascolta, non ti sentire, non mi ascolta Non mi ascolta, 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 non